Amici di Viva la Fuga, bentornati! Nuovo appuntamento con il percorso all'interno del ciclismo storico e non L'abbiamo parlato la settimana scorsa di una gara storica, di una tappa storica del Giro d'Italia Non vi dimenticate che in questo maggio e nel prossimo giugno il Giro d'Italia ci mancherà un casino E allora parliamo di quello che è successo in passato Un anno meraviglioso per me, per il Giro d'Italia, quello del 1991 Anno in cui il Giro d'Italia lo vinse Franco Chioccioli, lo vinse dominando il Giro d'Italia in lungo e in largo Vinse pure la cronometro finale, ma vinse soprattutto la tappa con l'Aprica La famosa e terribile salita del Moltirolo con l'arrivo di Aprica, una tappa meravigliosa Dove Chioccioli attaccò a una settantina di chilometri dall'arrivo Facendo due passi da solo, il Moltirolo su tutti Facendo l'ultima salita finale tutta in solitudine E con un bellissimo gesto, quello del grande Alfredo Martini Che corse a fianco di Chioccioli dichiarando poi che gli stava soltanto dando i tempi Gli avversari erano i grandi Bugno, i grandi Chiappucci, Massimiliano Lelli, Leonardo Sierra Grandi, grandi scalatori, grandi, grandi atleti che Bugno insomma l'anno prima se l'ha vinto in Giro d'Italia mica da poco peraltro Vinse la tappa Franco Chioccioli Ribadendo e riportando ancora di più alla cronaca Quello che era la sua innata somiglianza con Fausto Coppi Che gli è vato sopra il nome di Coppino Non ho mai capito se Coppino a Franco sia piaciuto o meno Magari ce lo faccia qualcuno, lo chiede a Franco, ce lo faccia sapere Quella tappa rimane comunque nel mio cuore Perché diciamoci la verità Franco Chioccioli attualmente vive nello stesso Comune in cui sono nato e cresciuto io E io correndo in bicicletta davendo Franco lì a 3 km da casa Era tutto rosa, era tutto rosa, tutto rosa, tutto rosa Strade rosa, monumenti rosa, balconi rosa, casero Tutto era rosa in quella valle Nel 1991 di questo dobbiamo dire grazie a Franco Per queste peraltro i mirabolanti avventure del ciclismo E per altre mirabolanti avventure tecniche e curiosità Sul mondo delle biciclette dovete iscrivervi al canale Se vi va attivare la campanellina se vi va Oppure seguire il profilo Instagram se vi va E se vi va potete anche farlo tutto insieme L'importante è che non dimentichiate la cosa più importante di tutti Viva la fuga! Ma sempre!